Dante Ferretti, effimero per errore. È il nome della mostra dedicata allo scenografo premio Oscar originario di Macerata, che verrà inaugurata il 24 luglio e sarà visibile secondo gli orari di apertura di Palazzo Ricci e la ospita fino al prossimo 19 settembre. Un allestimento immersivo tra il buio e la luce per scoprire come inizia il percorso di costruzione di un film o di uno spettacolo teatrale, attraverso i bozzetti provenienti dalle collezioni della fondazione e per la prima volta esposte al pubblico. Penso che definire la mostra in questo momento sia assolutamente limitativo. Sarà un'esperienza, un'esperienza da vivere a tutto tondo nel mondo così straordinario del vestire gli spazi e creare delle scene per raccontare una storia. Quindi un'esperienza fatta tra l'immaginario, la fantasia, la verità, quello che il nostro sogno crea, l'effimero per errore come è il titolo della mostra, un viaggio a tutto tondo che avrà nei momenti essenziali e cruciali, darà la possibilità di ammirare i bozzetti del maestro Ferretti. Sono 11 opere del maestro Ferretti, la maggior parte peraltro di film che hanno vinto l'Oscar, quindi con un valore aggiunto sicuramente in più. Nelle sale di Palazzo Ricci saranno esposti 10 bozzetti a pastello su alluminio, carta, cartoncino, cartone, compensato e tela. E un modellino di resina. L'allestimento della mostra è a cura di Pierfrancesco Giannangeli e Benito Leonori con l'assistenza di Bianca Piacentini. Vede il padrocinio della Regione Marche e del Comune di Macerata. Macerata è una grande città di cultura, macerata che deve vivere di grandi spazi e di grandi eventi culturali, grandi spazi come lo Sferisterio con le sue stagioni liriche non solo, i musei, il museo di Palazzo Ricci, forse una delle più grandi collezioni d'arte moderna d'Italia, una città che deve diventare un polo culturale e che deve vivere con l'appoggio di tutta la provincia e di tutto il territorio. Sono state attivate nella creazione delle mostra assolutamente energie, geni, personalità, strumenti maceratesi. Questo è l'importante. Dobbiamo creare eventi per il territorio con le grandi eccellenze che in questo territorio sono nate, ci vivono e continuano a lavorarci.